Ancora non è stata compresa. Chi vuole fare la polemica quotidiana lo faccia, ne ha diritto, siamo in democrazia. Chi invece ha la responsabilità del governo deve avere anche il coraggio di adottare iniziative che al momento non possono essere comprese, ma poi verranno comprese da tutti. Così l'assessore al welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso sulle perplessità che la tessera sanitaria a punti continua a sollevare. L'occasione la offre la presentazione di Stai Sano, il progetto dell'Università Statale di Milano per la cultura del benessere a cui ha partecipato tra gli altri anche il rettore Elio Franzini. Basta, ripeto, vedere quelli che sono i numeri, quelle che sono le proiezioni, capire che fra qualche anno avremo un numero molto importante di persone anziane, un numero purtroppo non altrettanto importante di persone che lavorano e che quindi fanno anche previdenza in qualche modo e dei costi quindi per la sanità che saranno assolutamente insostenibili. Chi ha la responsabilità di governare deve anche avere la capacità di non essere miope. Al progetto della tessera sanitaria a punti, ha aggiunto Bertolaso, lavoreranno professionisti che già ieri hanno avviato un'interlocuzione. Abbiamo fatto anche ieri pomeriggio una riunione con gli esperti dell'Università Bocconi, del Politecnico di Milano, quindi non stiamo parlando di giocattoli o di situazioni poco competenti. Io penso che entro la fine di questo semestre, diciamo prima dell'estate, saremo in grado di avere un progetto. Dalla statale l'assessore Bertolaso ha ricordato, dobbiamo garantire una consapevolezza, solo attraverso una prevenzione seria si riesce ad avere una possibilità di vita non solo più lunga possibile, ma anche più sana possibile. Quello che noi tutti vogliamo, che senso ha vivere fino a cent'anni, ma trascorrere gli ultimi trent'anni in un letto di ospedale, oppure in una struttura per anziani, o su di una carrozzella o in condizioni ancora peggiori. Non ha senso, quindi da questo punto di vista credo che il nostro impegno deve essere proprio quello di garantire la vita più lunga possibile, ma più sana possibile. Critico il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino, che commenta le parole di Bertolaso così. La tessera a punti rischia di essere un po' un pasticcio, un po' un diversivo, mentre la sanità lombarda sta arretrando pesantemente nelle classifiche. Oggi, secondo i dati del report Welfare Italia Index 2023, siamo addirittura ottavi per efficacia del sistema di welfare e secondi per spesa privata destinata alla cura della salute. Bertolaso dovrebbe prendere atto del fatto che le sue idee, anche in qualche caso condivisibili, restano irrimediabilmente al palo.